Vogliamo essere ottimisti. Ottimisti in che senso? Lei pensa che Monti accetterà le stanze? Non lo penso, lo spero, perché bisogna dare risposte a questa gente che sta sfilando, che poi sono i siciliani, e quindi bisogna dare risposte a tutti i siciliani che sono stanchi di essere vessati e maltrattati. Noi abbiamo detto stop allo sciopero, quindi per quanto riguarda questo aspetto noi abbiamo finito di bloccare niente perché non vogliamo andare a continuare ancora con questi blocchi. Vorremmo eventualmente attuare forme diverse di lotta. Se Monti non accetterà le vostre stanze, il Movimento che farà? Il Movimento continua, il motivo per cui è nato è proprio questo, avere delle risposte. Il Movimento continuerà la lotta che sta facendo. Ripeto, in forme diverse vedremo quali, poi vedremo come fare. La spaccatura del Movimento esiste ancora? Per fare la pace Morsello ha una sola strada, chiudere immediatamente tutti i siti Facebook, togliere il dominio dei siti Facebook in Sicilia e in tutta Italia, perché sono nelle mani di Forza Nuova, tutti. Grazie.